Siamo con Giovanni Bovo al termine del derby, è strano vederti con questa maglia ma quest'anno hai questa grande opportunità di far vedere il tuo valore da titolare a Valdagno, lo stai facendo alla grande, bella partita oggi ma contro questo trissino probabilmente era difficile fare più di così. Sì, buonasera a tutti, è stato sempre il derby, è stato emozionante giocare contro la mia vecchia squadra, noi ci abbiamo messo tutto quello che avevamo, il trissino si sa è una squadra che punta molto in alto, noi ci siamo, dobbiamo migliorare delle cose però vedo la squadra molto determinata a far bene e secondo me sono convinto che faremo bene. Hai detto la cosa giusta, volevo dirtela io, il Valdagno c'è per quello che si è visto, avete un'idea chiara di quello che dovete fare per arrivare dove? Beh, senza ombra di dubbio noi puntiamo più in alto possibile, cioè non abbiamo limiti, noi puntiamo arrivare nei playoff Coppa Italia, dobbiamo fare il meglio che possiamo, siamo una squadra giovane e tutti quanti hanno voglia di imparare, di crescere e possiamo far bene insomma, possiamo far bene. Che effetto ha fatto giocare al derby con un palazzetto pieno per la prima volta con una maglia diversa da quella del trissino? È stato veramente emozionante, ho già giocato con il Montebellio contro il trissino però era un ambiente diverso, il derby trissino-Valdagno con la maglia del Valdagno è tutta un'altra cosa, comunque è molto molto emozionante veramente. E allora noi facciamo in bocca al lupo a Giovanni e al Valdagno.